Allora, per la prima classe della primaria ovviamente consiglio un blocco di libri. Sono le storie pubblicate da M edizioni per l'anniversario dei cento anni di Rodari e sono singoli racconti di Rodari pubblicati, raccolti come se fossero libri. Qui ne abbiamo tanti, sono otto mi pare, non so se li ho tutti qui adesso fisicamente, ma otto titoli in questa collanina, leggo una storia col maestro Gianni, questa è la collana, e che danno enorme soddisfazione di lettura. Sono tutti in stampatello maiuscolo, quindi potete provare a lasciarli in mano a loro direttamente. Vi leggo i titoli che ho qua, L'orso pescatore, La casa del signor Wenceslau, La corsa delle tartarughe, Il concerto dei gatti, Topio dei fumetti, La passeggiata in un distratto, Il semaforo blu, Sì, non le ho prese tutte, però dopo ve le elenco. Vi faccio vedere quella che è la mia storia dell'infanzia per farvi capire com'è. Allora, sono pagine rigide, all'interno, immagine piena, poche righe in stampatello maiuscolo. È il racconto, in questo caso appunto del semaforo blu, sono molto immediate le immagini, il testo è sempre poco, non dà paura, è una prima lettura che loro possono fare con gioia, perché leggono un libro da soli. Viene, peraltro, anche un prezzo decisamente interessante, 5,90 la singola storia. Quindi potete metterne anche più di una, io vi direi anche tutte, più di una nella lista dei desideri, perché comunque rodari. Grazie. Grazie.